La Not Choosing Blues Band Potete andare a visitarla quando vi pare, ci sono dei video e ogni tanto mettiamo qualcosa di nuovo per sensibilizzare la gente che ama i blues, il genere e le date dei nostri prossimi concerti La Not Choosing Blues Band 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 ma ma bebi ma bebi ma bebi ma bebi scopo 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 c every time she's her she Il signor Claudio Rocchi e la chitarra, un applauso, grazie! Alle tastiere il signor Hermel De Gasparini! Alla batteria, mister Luziano Camacho! Signor Claudio Rocchi on the bass! Mister Ricky Blinddog, heart KKK on the voice and harmonica! Buonasera, buonanotte a tutti, now choosing blues band! Alla batteria, mister Luziano Camacho! 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 Ciao a tutti, buonanotte e grazie